Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 142 Anima Nera che possiamo trovare anche all'interno della grande ristampa numero 48. La copertina di Angelo Stano originale la possiamo trovare qui sulla sinistra. Devo dire davvero ottima, molto dettagliata e il tratto generale proposto in questo disegno mi è piaciuto veramente tanto. Rappresenta molto bene un'infarinatura generale di ciò che potremmo trovare all'interno di questa avventura, quindi una panoramica generale sui personaggi portanti. I test della sceneggiatura sono di Chiaverotti e disegni di Bruno Brindisi. Che cosa succede? Dylan viene assunto da una ragazza per indagare su misteriosi mostri scaturiti dalla mente di un ragazzo malato. E viene assunto per scacciarli. Ma saranno questi mostri veri artefici dei delitti che si susseguono per Londra nelle notti dell'anima nera? Oppure ci sarà qualcun altro che andrà in giro ad ammazzare la gente? Questa è la trama. Devo dire molto buona perché inizialmente vanta un notevole approccio psicologico, quindi Chiaverotti che va ad analizzare bene il subconscio malato del protagonista di turno. Poi questa avventura prenderà una piega votata al genere giallo dopo i tre quarti della lettura. Ecco, questa sfumatura mi è piaciuta, però dopo alla fine va a sopprimere fin troppo la natura originaria, paranormale e psicologica di questa avventura. Quindi il racconto giallo che tenta di mischiarsi con la trama principale ma va un pochino troppo a, diciamo, un pochino troppo a rovinarlo. Ecco, quindi una storia che poteva avere dal mio punto di vista un finale magari sempre di questo tipo ma un pochino più delicato e non così pronunciato. Si cambia atmosfera, si cambia proprio stile di narrazione da un minuto all'altro e questo fatto non mi è piaciuto. Tutto sommato però rimane comunque un buon albo. I disegni di Bruno Brindisi sono decisamente equilibrati nel corso di questa avventura. Brindisi che ricalca linee più dettagliate del solito, mi pare di vedere così a occhio. Ci sono anche però dei volti che tendono all'ovalizzazione, anche qui come vedete quello di Jenkins, quello di Block, quello della ragazza di turno, di Dylan. Insomma i personaggi hanno questo tratto tendenzialmente filante, più marcato rispetto ad altre avventure. Ecco Brindisi che disegna in questo modo i personaggi in questa occasione. Quando si parla di Bruno Brindisi è impossibile non nominare la sua rappresentazione spettacolare degli edifici che in campi esterni con eventuale natura annessa riescono a dare davvero l'impressione di una fotografia in bianco e nero. Diciamo che ci ho messo quattro ore per leggere quest'albo perché tre ore sono stato qui imbalsamato a vedere questo disegno, l'altra oretta ho terminato la lettura. Quindi insomma ipnotizzanti i disegni di Brindisi talmente sono belli in alcune situazioni, soprattutto come vi dicevo in campi esterni con la rappresentazione degli edifici. L'anima nera della notte è stato un buon paesaggio dove possiamo trovare dei personaggi veramente interessanti che ci ruotano attorno a voto finale diciamo un sette e mezzo. Fermamente è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila dove vuoi, iscriviti al canale YouTube del DilanDogofilo, è importantissimo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di DilanDog e noi ci vediamo in una prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo.